E qui dallo stand del Plein Air tante le proposte per il turismo itinerante, proposte gastronomiche ma anche proposte di viaggi e vacanze. Siamo qui al Salone del Camper per invitare tutti i camperisti e tutti i turisti a partecipare al Gran Galà del Tortell Dolls. 10 e 11 ottobre a Colorno, di fronte alla bellissima regia di Maria Luigia, vi presentiamo un evento gastronomico dedicato al Tortell Dolls, che è un tortello molto particolare con ripieno di mostarda di frutti antichi, mele cotogne, pere nobili e zucca da mostarda con vincotto e pangrattato. Per chi viaggia in camper noi proponiamo i nostri antipassi e i nostri funghi porcini. La nostra è un'azienda piemontese che produce da più di 120 anni. I nostri prodotti sono naturali, non hanno né coloranti né conservanti, facciamo le cose come si facevano una volta. Per tutti i camperisti, area camper sotto le mura della reggia, quindi assolutamente vicino, molto comodo. Ricordiamo che è semplicemente un'area sosta, ma sarete i benvenuti e vi aspettiamo quindi a Colorno il 10 e 11 ottobre per assaggiare il Tortell Dolls. Chi lo prova se ne innamora. Abbiamo due prodotti che sono nuovi, che sono due sughi, che vanno bene, sono pronti all'uso, basta ovviamente soltanto scaldarli, si possono condire la pasta, si possono usare come contorno anche per le carni e per gli arrosti. Vanno molto bene per il camper, infatti parecchio che noi collaboriamo con plein air, proprio perché essendo in scatola si possono tenere per un po' di tempo, non hanno problemi di urti e quant'altro.